Caro cittadino, nato il bla bla bla, Regione Lombardia la invita il giorno a presentarsi presso il centro vaccinale a Bollate, uno. Quell'altro, caro cittadino, bla bla bla, a Cesate. Guardiamo l'ora, una in quarto uno e una e 47 l'altro. Fantastico! È arrivato un messaggio alla 1.46 di notte, che in pratica ho visto poi alle 7.30 del mattino, dove veniva richiesto di portare alle 10.30 la mamma a Bollate. Ma pensavo fosse uno scherzo, perché sarà fatto in modo elettronico, quello che sia, ma non sembrava assolutamente vero. Difatti ho dubitato, ho fatto lo screenshot e l'ho inviato subito al mattino al medico per dirgli, ma che cos'è questa cosa? È uno scherzo? È una cosa reale? Una mia paziente che ieri mattina alle 6 mi ha avvisato che nottetempo, intorno alla 1 di notte, aveva ricevuto un messaggino, per conto della madre novantenne 1927, di dover fare la vaccinazione alle 10.30 della mattina successiva a Bollate, la signora è su una carrozzina, dice neanche logisticamente avrebbe potuto organizzare un permesso dal lavoro per poterla accompagnare, poi oltretutto anche in maniera molto impegnativa. E quindi non si sarà presentata. Il mio timore è che gente che non si presenta hanno già scongelato le dosi e queste dosi vadano a farsi benedire se non si presenta qualcun altro a fare questa dose. Beh, stamattina me ne ha segnalati altri due, altri due che mi hanno detto che anche i suoceri in altra provincia hanno avuto lo stesso problema. L'ospedale più vicino, Busto Arsizio, ma ha sempre comunque ricevuto messaggi in orari astrusi, tipo le 9 di sera per la mattina successiva, insomma. E quindi il problema si sta ripresentando, hanno cominciato l'altro giorno e quindi vedremo nei giorni a venire come andrà. Secondo me la definizione esatta è successo un casino a macchia di leopardo. Ho avuto anche Whatsapp che mi hanno inviato, addirittura mi hanno avvisato il giorno prima per portare il papà o portare la mamma a 25-30 km. Io domani lavoro, non ho tempo e si dovevano inventare qualche cosa perché è successo anche questo. Io le prime segnalazioni le ho avute stanotte, insomma, mezzanotte, mezzanotte e 44, alle 6.50 di mattina, 7.56, 8, 8.45, anche una decina di segnalazioni l'ora. Il problema grosso di questa mattina è che i medicini di base mi stanno dicendo che stanno arrivando prenotazioni per persone allettate, che loro hanno segnalato come non trasportabili e questo è un problema enorme. I più vari, abbiamo un caso ad esempio di una figlia che dice non posso trasportare perché sono in quarantena fiduciaria. La madre è schedulata a trezzo, il padre è schedulato a pieve e dovrebbero trasportare sia l'uno che l'altro nella medesima mattina, magari con uno scarto di 20 minuti. Sinceramente mi è venuto da ridere, ho detto ma qua è una presa in giro. Parlo con i miei che dico ma ve la sentite? Mi hanno detto guarda rinunciamo a farla, però non è neanche giusto, neanche quello. Io ho persone che hanno telefonato anche ai miei che gli hanno detto caspita ci hanno chiamato per andare a bollate, non sappiamo come fare, cosa facciamo? Una macchinata, ma vi rendete conto? Una macchinata di novantenni che vanno tutti a bollate a fare la vaccinazione. Certo che ho paura, spero che glielo facciano al più presto perché comunque è già un soggetto con patologie, un soggetto come tantissimi anziani debole. Si chiamano anche un medico di base in pensione che sa com'è il territorio, forse è più utile per organizzare meglio la situazione. Ecco.